Ci siamo arrivati alla decima edizione di Almeni, Almeni va in doppia cifra, un evento internazionale che porta nel nostro territorio proprio all'inizio dell'estate chef di livello internazionale da tutta Europa, da Israele, dal Canada con un numero sempre crescente di chef donne e quest'anno c'è un messaggio importante che è quello dell'abbraccio, della solidarietà nei confronti delle popolazioni alluvionate e quindi uno spazio particolare ai produttori delle zone alluvionate. L'attenzione ricade in particolar modo a tutti coloro che hanno avuto danni, che sono quest'anno ospitati gratuitamente sui banchetti della fiera. Anche qui abbiamo tanti produttori di diverso tipo ma l'eccellenza resta il tema dominante del mercato. L'eccellenza e le storie che questi produttori raccontano, storie personali di vita e storie che raccontano nel modo migliore possibile un territorio. Nel nostro stand faremo uno stand collettivo di presidi, avremo presidi dell'Emilia e presidi della Romagna e con questo vorremmo comunicare alle persone l'emozione che questi prodotti danno a noi. Almeni può essere un punto di partenza e un contributo allo sforzo che stanno facendo questi contadini e questi artigiani. Un evento che avrà molte novità e che quindi sappiamo che sarà la possibilità ancora una volta di far conoscere i prodotti enogastronomici del nostro territorio e di far conoscere anche la grande cucina a tutte le persone che avranno voglia di condividere questo momento.